In questo video faremo il test delle palline fumogene di Piro Group. Qua sopra è il logo dell'importatore, Piro Group, 6 pezzi la confezione. Qua il codice dell'articolo, pallina fumogena, 1 grammo per pallina, 6 pezzi la confezione, quindi 6 grammi totali per il pacchettino. Due bianche, una gialla, una verde, una blu e una viola. Peccato le due bianche, potevano metterci un colore in più. Però andiamo a vederle in azione e vediamo come sono. Almeno faranno il loro fumetto. Chissà perché fuori dalla pallina non vanno. Ed eccole qui ragazzi, articolo semplice, economico, ma con cui comunque...